In presa in difficoltà, un tema caldo che porta il tag del caro energia, ma non solo, stando a quanto evidenziato dal direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, che chiede aiuto alla Regione Abruzzo per una questione da troppo tempo irrisolta e che oggi aggrava il quadro delle attività del territorio che devono sopportare i canoni consortili su aree industriali e che dire dei servizi, come per esempio l'illuminazione, che o non viene erogato o lo è solo in parte. L'Associazione Confindustriale ha richiesto l'annullamento dell'invio delle cartelle alle imprese in crisi. Ecco, questo le aziende non lo possono più sopportare. Combattiamo da anni per una rivisitazione totale di pagamento dei servizi sul richiesto, o comunque servizi individuali, cosa che non è avvenuta, però le cartelle e i decreti ingiuntivi continuano ad arrivare. Esiste un fondo che potrebbe risolvere e fare la differenza? Il fondo notativo è stato già istituito nel 2020 nella Regione e l'utilizzo è stato molto scarso. La Regione questo ci ha detto nell'incontro che abbiamo fatto con loro ad agosto. Noi abbiamo sostenuto, chiedendo alle nostre imprese, il perché non è stato utilizzato e ci si risponde appunto che la procedura era di una burocrazia veramente asfissiante e quindi hanno preferito non utilizzare questo fondo notativo. Dal 1 gennaio il fondo potrebbe essere istituito. Naturalmente si tratta da parte della Regione di trovare delle risorse finanziarie che possono in qualche modo sospendere i canoni stessi che sono state richieste alle imprese e non solo le piccole e medie imprese che stanno soffrendo, anche a grandi aziende che vanno da Valdisangro, Vasto San Salvo, dove le cartelle sono veramente elevatissime e c'è una confronto e una concorrenza interna con imprese gemelle che si trovano in altre nazioni dell'Europa. Quindi non abbiamo più solo la concorrenza di aziende che vengono dai paesi in via di sviluppo, assolutamente no. c'è una concorrenza interna ai paesi dell'Unione Europea.